Ciao a tutti ragazzi sono qui per la seconda parte del video per per parlarvi sempre dei setup per iniziare a giocare a software in questo caso per un setup base completo tra cui spesa minima dai 300 e fino ai 450 euro ovviamente per una spesa minima dai 300 ai 450 euro per un setup base completo tra cui questi però vanno ad aggiungersi al setup base per il setup base completo invece che cosa consiste? voi dovete comprare praticamente altre cose altri accessori che vi servono allora passiamo al numero 4 numero 4 numero 4 avete bisogno di avete bisogno delle batterie avete bisogno delle batterie supplementari perché avete bisogno di varie batterie quindi di conseguenza dovete comprare batteria batterie e caricabatterie proprio specifico questo perché dovete comprare un suo caricabatterie una lipo e due sono le opzioni ho comprato una lipo oppure una life che hanno due tecnologie diverse però vi consiglio tra la lipo e la life perché ovviamente sapete sui modelli low cost di marca tipo ICS e G&G G&G non escono comprese quindi dovete fare una spesa minima di 50 euro da cui comprandovi la batteria ovviamente dovete trovare la batteria giusta per il fucile e il fucile e il caricabatterie supplementare perché ovviamente nei fucili low cost cinesi invece le batterie vi danno e il caricabatterie vi danno compresi però 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 escono però invece però invece però invece perché quelle batterie che vi danno sui fucili low cost cinesi praticamente sono molto scadenti quindi mi raccomando non utilizzatene mai perché sono molto scadenti quelle batterie quindi buttatele via compratele le altre perché quelle sono molto scadenti quindi comprate e di conseguenza comprate comprate solo delle delle lipo e state a posto perché ovviamente avete una buona batteria e dovete spendere i 50 euro poi quinta cosa da cui dovete comprare poi la seconda cosa ovviamente sono il gilet tattico gilet tattico praticamente un gilet tattico praticamente se che un gilet tattico del genere può costare se volete proprio un gilet tattico di conseguenza se volete proprio solo la tasca portacaricatori costa di tornare 20-40 euro ma se volete proprio un gilet tattico completo dovete spendere sui 60 sui 80 euro praticamente però dipende da quali negozi andate poi un'altra cosa che dovete portarvi con voi è un paio di caricatori un paio di caricatori di caricatori un paio di caricatori un paio di caricatori di conseguenza perché è faticoso giocare solo con un caricatore e poi ogni volta riempirlo di pallini quindi come minimo vi consiglio di portare due o tre caricatori con voi ovviamente vi consiglio i maggiorati perché avete più pallini di conseguenza vi consiglio ovviamente i maggiorati il costo relativo è tra i 10 15 euro ma dipende anche da da quale modello che avete da quale modello che i caricatori che prendete dipende anche dal modello del fucile che avete quindi dovete assicurarvi che sia che siano compatibili in conseguenza vi consiglio di comprare un paio di caricatori poi di conseguenza questi sono i caricatori per soft air vi consiglio di portare un sacco di loro e poi l'ultima cosa è la cinghia una cinghia un'altra colla un'altra colla la cinghia per fucili soft air allora io vi consiglio la cinghia la potete una buona cinghia la trovate attorno dai 3 10 ai 30 euro poi ovviamente ragazzi io vi consiglio tra quelle lì a un punto proprio se volete poter essere più liberi vi consiglio quelle a un punto e di conseguenza avete bisogno di una cinghia per portare poi una replica una una opzionale se volete proprio aggiungere una opzionale ovviamente è la pistola la pistola ovviamente è opzionale ma ovviamente potete giocare pure solamente col fucile bene ragazzi questo qui è finito questo è il base il setup base completo questo è tutto noi ci vedremo magari in un altro momento con un setup avanzato ciao a tutti alla prossima